Wikipedia nasce nel 2001 e si sviluppa con l'idea di creare la più grande enciclopedia a contenuto aperto della storia. Wikipedia è redatta grazie al contributo di tantissimi volontari, chiunque può collaborare. Vediamo come. Quasi tutte le pagine di Wikipedia presentano in alto una linguetta con la scritta modifica, che consente di fare esattamente quello che dice, modificare la pagina che si sta leggendo. In Wikipedia, infatti, non esiste una redazione. Qualsiasi utente può accedere ai contenuti di tutte le pagine dell'enciclopedia e modificarli senza necessità di registrarsi. La formattazione del testo segue delle regole particolari, ma si tratta di un linguaggio abbastanza semplice, facile da imparare. Salvando la modifica, si accetta di rilasciare il proprio contributo con una licenza libera. Chiunque potrà consultare, utilizzare e riadattare il testo, anche per scopi commerciali, a condizione di citare gli autori della voce e di riapplicare la stessa licenza a tutte le opere derivate. È inoltre importante ricordare che ogni utente, anche non registrato, resta sempre responsabile personalmente dei propri inserimenti. A questo punto, la modifica è immediatamente visibile a tutti. Wikipedia non è una raccolta indiscriminata di informazioni, ma un'enciclopedia, una raccolta sistematica del sapere umano. Su Wikipedia, infatti, non vanno inserite definizioni da vocabolario e neanche ricerche originali. Ogni pagina ha una sua cronologia, che elenca tutte le versioni realizzate dal momento della sua creazione. Oltre all'ora, la data e l'oggetto della modifica, il software registra anche chi l'ha effettuata. Nel caso di un utente anonimo, viene rilevato l'indirizzo IP da cui è stata eseguita. La cronologia consente anche di confrontare due diverse versioni per evidenziarne le differenze. Su Wikipedia niente va perso, ma per i primi tentativi di scrittura è bene usare la pagina delle prove, detta anche sandbox, che può essere modificata a piacimento. Per lavorare con più calma, un utente registrato può anche crearsi una sandbox personale, nella propria pagina utente. Per generare una nuova pagina, basta creare un link, oppure cliccare su un link rosso già esistente. E' comunque buona prassi verificare prima se la pagina non sia già presente. Per garantire un buon funzionamento del progetto, la comunità ha elaborato delle linee guida, che tutti gli utenti sono invitati a rispettare e a far rispettare. Uno dei principali canoni di Wikipedia è l'organizzazione dei contenuti per modelli. Vediamo la struttura generale di una voce. La sezione iniziale deve riassumere brevemente e con parole semplici i principali punti affrontati dalla voce. La pagina si sviluppa in sezioni o capoversi, che automaticamente vengono riassunti in un indice. Su Wikipedia possono essere inserite immagini, fotografie e anche video, ma è assolutamente necessario accertarsi che il materiale caricato sia liberamente utilizzabile, ossia rilasciato con una licenza libera. Tutte le informazioni contenute nelle voci devono essere attendibili e verificabili, per questo è necessario citare sempre le fonti da cui sono tratte, che devono essere largamente riconosciute e accettate. Alla fine di ogni voce, dopo il testo vero e proprio, sono presenti vari paragrafi accessori, che rinviano ad ulteriori approfondimenti. Per alcuni progetti tematici esistono convenzioni e linee guida specifiche, che aiutano nella stesura delle voci. Un principio inderogabile di Wikipedia è l'uso di un punto di vista neutrale. Le voci non devono contenere giudizi di merito, ma si devono limitare a presentare tutti i punti di vista di rilievo, in maniera equa, proporzionata e senza pregiudizi. Ogni voce di Wikipedia è affiancata da una pagina di discussione, in cui gli utenti possono confrontarsi e concordare una versione il più possibile adeguata e condivisa. A differenza delle pagine delle voci, qui gli interventi vanno sempre firmati, ma è bene ricordare che Wikipedia non è un posto in cui esprimere punti di vista personali o parziali. Quando un utente ha necessità di rivolgersi a più persone contemporaneamente, per un problema di interesse generale o relativo a uno specifico settore, può utilizzare il bar, oppure i rispettivi bar tematici. Ogni utente registrato dispone di una pagina personale, in cui può inserire qualche informazione su di sé. Anche a questa pagina è affiancata una pagina di discussione, che viene utilizzata come se fosse una casella di posta personale. Per questioni tecniche si può chiedere aiuto agli utenti più esperti, ad esempio attraverso lo sportello informazioni. Sui contenuti, invece, si può consultare l'oracolo. In caso di evidenti abusi o atti di vandalismo, alcuni utenti registrati, detti amministratori, possono intervenire con specifiche operazioni, come bloccare un utente o cancellare o bloccare una pagina. Gli amministratori sono volontari che hanno acquisito la fiducia della comunità e sono stati scelti attraverso un'elezione. Svolgono operazioni tecniche delicate e garantiscono il rispetto delle linee guida del progetto, ma non sono i responsabili di Wikipedia. Wikipedia è gestita dalla Wikimedia Foundation, una fondazione senza fini di lucro con sedia San Francisco, che garantisce le risorse per lo sviluppo del progetto. La fondazione, istituita nel 2003, vive grazie a sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati, ma soprattutto grazie a moltissime micro donazioni di singole persone. Per mantenere assoluta indipendenza e coinvolgere tanti contributori volontari, su Wikipedia infatti non c'è pubblicità. Nel frattempo in tutto il mondo sono nate diverse associazioni di volontari, che promuovono localmente Wikipedia e i progetti Fratelli. In Italia dal 2005 esiste Wikimedia Italia, che oltre ai progetti della Wikimedia Foundation promuove altre iniziative legate alla diffusione libera della cultura e della conoscenza. Ed è a Wikimedia Italia che possono rivolgersi la stampa alle aziende e le scuole per avere maggiori informazioni in italiano su Wikipedia. Tantissimi volontari gratuitamente accumulano, ordinano e strutturano le conoscenze condivise del nostro tempo, per renderle liberamente disponibili. E voi? Siate coraggiosi! Wikipedia e aperta a tutti! . 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 Grazie a tutti, grazie a tutti.